ciao amico amica dell'ariate benvenuto benvenuta questa è la lucerna di cronos e questo il tuo video per le energie di agosto 2022 puoi guardare questo video sia che tu abbia il segno solare in ariete o l'ascendente in ariete come sai al passaggio fra un mese e l'altro realizzo 12 video più brevi dedicati ai segni zodiacali appunto oggi è il turno del tuo segno l'ariete quindi andiamo a vedere che cosa porta agosto 2022 a te che ha il segno solare o l'ascendente in ariete la papessa carta di memoria carta di studio carta di valutazione carta di accumulo carta di contratto le implicazioni della papessa sono tante può essere anche la carta di una donna che c'è particolarmente cara una madre un amante una persona che non abbiamo dimenticato è una carta di segreti che vengono alla luce una carta legata alla scrittura quindi messaggistica o scrittura vera e propria dai libri fino alla contabilità fino a quello che è il lavoro dove comunque si deve scrivere un qualcosa è comunque una carta importante perché riguarda anche l'interiorità riguarda quello che è il dialogo con la nostra interiorità più profonda il discendere dentro noi stessi la magia della papessa si concretizzerà poi nella carta della luna quindi una carta che parla proprio dello sprofondare dentro noi stessi per comprenderci a fondo in tutte le nostre dinamiche sia quelle più diciamo più energeticamente forti ma anche quelle più cupe più oscure più interiori è una carta che avvia un processo di questo tipo ma appunto ti ripeto anche una carta di memoria e soprattutto una carta legata a quella che è la pragmaticità della vita che comunque si affronta con una buona quiete per quanto riguarda la carta della papessa ricordiamoci anche che questo mese il tuo pianeta marte entra in gemelli quindi è un mese nel quale forse potresti appunto avere anche la tendenza un po a misurarti con quello che sei con quello che hai costruito con quello che invece vorresti essere vorresti costruire che cosa porta il mese di agosto 2022 a chi ha la riete insolare o in ascendente che cosa porta il mese di agosto 2022 a colui e colei che ha il segno della riete insolare o in ascendente a taglio mazzo l'imperatore l'imperatore è una carta di co-creazione ma è anche una carta di imposizione delle proprie regole una persona che comunque da sicurezza da certezza da stabilità una carta che torna a parlare come già faceva la papessa di finanze ma anche una carta che nella sua accezione negativa che ricordo che queste due leggo in positivo e negativo poi nessun arcano in realtà è negativo in realtà sono sono neutri neanche positivi però questo è un altro discorso è comunque una carta che in posizione fra virgolette avversa ti ripeto parla anche forse di una certa marzialità per diventare magari un po despoti un po persone che cercano di imporre il corso agli eventi quindi magari anche su questo ti tira un po e gli orecchi vediamo un pochino singolarmente in amore il mese di agosto 2022 allora abbiamo una regina di denari un fante di coppe e un 5 di spade le novità non ti piacciono questo mese le novità sia che tu sia single sia che tu sia in coppia ti creano un po di conflitto una regina di denari e un'energia di chi è comunque abbastanza assertivo da con discrezione possibilità alle persone cerca un pochino di capire come poter appunto ottimizzare anche le persone che sono attorno a sé cerca di capire quanto sta dando quanto gli stanno dando forse una persona un po calcolatrice per una persona che agisce comunque nell'interesse di una collettività e che quindi riesce anche a porsi nel punto di vista nell'ottica degli altri a capirne magari le istanze questo però non fa di questa persona la persona sensibile al fascino di infante di coppe che comunque può rappresentare una novità che viene a interrompere la monotonia ma che altrettanto rapidamente si lascia scivolare via soprattutto se sei single è un mese nel quale potresti appunto avere magari delle conoscenze oppure una persona in particolare rappresentata da questo fante di coppe potrebbe voler magari avvicinarsi un pochino alla tua vita magari per capire un po di più cosa può esserci fra voi però in realtà ti vedo chiuso ti vedo chiusa un 5 di spade una carta di rilascio una carta di conflitto forse proprio perché questo mese te lo prendi per te per analizzare un po come la papessa dice quello che hai costruito attorno a te come ci dice l'imperatore comunque è un mese nel quale in realtà nonostante te lo vedo chiudere in maniera conflittuale e in alcuni casi questo conflitto potrebbe anche proprio diventare tangibile reale quindi potrebbe aprirsi una dimensione conflittuale con qualcuno che nonostante tutto potrebbe magari anche essere armato o armata di buone intenzioni però ai tuoi occhi forse troppo frivolo troppo frivola troppo è poco credibile anche nella coppia vedo comunque una una sorta di esplosione energetica una sorta di diciamo rinnovamento non deve essere necessariamente un qualcuno che entra a minare la coppia per alcuni lo sarà ma per pochi credo perché poi una regina di denari di solito in posizione tra virgolette ripeto positiva non è una carta di chi magari può tramare alle spalle di qualcuno anzi di solito una carta che si prodiga per aiutare qualcuno quindi anche se tu fossi già in coppia qua io vedo comunque la possibilità che ci sia con questo fante di coppe un rinfocolare un po l'energia un po un lasciarsi andare però dal quale subito si fa marcia indietro con questo cinque di spade quindi è un momento un po questo mese dove secondo me vai a misurare quelle che sono appunto le potenzialità che hai le possibilità che hai quello che ti sei costruito costruita al tenore della coppia però poi questo non cambia nulla cioè poi alla fine procedi per la tua strada è un mese dove appunto un eventuale influenza esterna o anche un eventuale non voglio parlare di ripensamento ma parlo di momento di particolare passione attenzione per la coppia diventa poi un motivo per chiudersi ulteriormente perché comunque alla fine tu hai un percorso quello stai seguendo quello vuoi fare quindi in realtà questo mese ti vedo si aperto aperta alle nuove possibilità in coppia o alle nuove conoscenze se sei single ma con discrezione è un mese nel quale non prendi una posizione netta a livello affettivo per qualcuno per pochissimi in realtà credo che questo fante di coppia possa rappresentare effettivamente un qualcuno che viene a minare la stabilità della coppia ma anche qui non ti vedo prendere posizione come se tu mi chiodessi il mese appunto con questo atteggiamento di dubbio di conflitto un po con l'idea di relazione in generale vediamo un pochino a livello lavorativo il 7 di denari il 3 di denari e il re di bastoni beh qua a livello lavorativo invece vedo crescere nonostante alcune potrebbero essere spese improvvise di inizio mese oppure magari un eccessivo dispendio tuo perché magari vuoi che ne so concederti un premio vuoi e quindi anche la necessità poi di fare un attimino attenzione dopo con un 3 di denari carta di economia carta di accordo carta di riequilibrio però anche carta di messaggio se non hai un lavoro questo mese sei favorito qualcuno ti aiuta questo re di bastoni in fondo è proprio la carta di chi dà un'indicazione un consiglio prezioso se non addirittura un aiuto tangibile oppure magari sceglie di darti un'opportunità lavorativa ecco vedo comunque un sostegno per alcuni potrebbe essere anche un sostegno da parte delle istituzioni e di bastoni rappresenta anche le istituzioni comunque ecco un 7 di denari iniziale mi fa capire un po che si parte da una situazione dove di fatto forse non mancherebbe un buon approccio alla materialità però purtroppo il 7 di denari anche la carta di chi è insoddisfatto e vuole comunque superare il momento per alcuni sarà così perché magari vogliono più sicurezza per altri sarà così perché hanno necessità di una stabilità perché magari a questo momento non hanno lavoro non hanno possibilità di entrate fisse ecco vedo sciogliersi molte paure intorno alla metà del mese grazie anche quella che è una voce una comunicazione scritta un messaggio oppure anche un appuntamento un colloquio che con questo reddi bastoni in fine del mese vedo comunque concretizzarsi in un qualcosa che appunto viene a darti un sostegno un aiuto e per qualcuno questo aiuto viene proprio dalle istituzioni perché comunque reddi bastoni mi rappresenta anche quelle forse anche questo che ti porta ad essere un po chiuso chiusa a livello diciamo affettivo perché magari questo mese hai più a cuore quella che è la tua stabilità quindi riuscire a magari a superare un momento in cui non dico ci sia crisi perché sono carte di denari alla fine ma magari si potrebbe migliorare la situazione quindi ti vedo più orientato orientata a cercare un modo per anche alla luce per qualcuno delle inevitabili spese che poi le ferie portano quindi in realtà anche per questo secondo me un e tre di denari tra l'altro può parlare anche di spostamenti quindi per qualcuno sarà proprio la spesa necessaria per recarsi in ferie mentre per altri sarà una spesa necessaria al sostentamento comunque vada questo reddi bastoni finale ti va a dare un po' una ventata di fiducia e anche e soprattutto quello che può essere un aiuto concreto per ripartire nei mesi successivi o per migliorarti nei mesi successivi vediamo un po' a livello di energie il quattro di coppe vedi un po' quello che dicevo il quattro di coppe la ruota è una carta di saturazione sì e il re di spade allora le energie sono quelle che ho detto fino a ora ovvero un momento in cui magari ci sono anche possibilità sia in amore che nel lavoro o comunque in generale non sembra andare così male comunque un momento nel quale magari abbiamo noi un po' di pienezza di saturazione in alcuni casi anche di troppa scelta per quanto riguarda persone con cui avviare una frequentazione più 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 forte però proprio questa pluralità di scelte proprio questa staticità anche in un certo senso perché poi in realtà il quattro di coppe è una carta di staticità in un certo senso nonostante l'abbondanza o la possibilità di creare l'abbondanza è una carta di mancanza di stimoli, di pigrizia, di staticità, di un po' anche di rilascio ti vedo demotivato o demotivata a inizio mese ti vedo come se tu ti prodigassi forse troppo per gli altri ma pensassi meno a te stesso, te stessa questo alla fine ti porta a diciamo a volere un po' appunto questo di volere un po' di chiusura in te stesso, te stessa un po' come questa papessa ci dice quindi una carta che va poi a ricercare l'interiorità magari anche perché ha dato troppo a situazioni o persone attorno a sé questo porta ad una ruota e a un re di spade quella chiusura che vedo con un 5 di spade a livello affettivo che vedevo in cima quindi una carta che mi va a parlare infine della chiusura del mese con un conflitto soprattutto a livello affettivo, emotivo, familiare me lo va a ribadire un re di spade mi va a ribadire il fatto che comunque nel finale del mese si sceglie un pochino di lasciarsi scivolare addosso anche tante possibilità di realizzazione della coppia se si è single o anche magari tanti momenti di coinvolgimento perché fondamentalmente si pensa più a una realizzazione materiale con questo re di bastoni e soprattutto si pensa anche a ricostruire un po' la propria dimensione interiore rinsaldare un po' il trono di quest'imperatore quindi è un mese che ti vedo finire in maniera piuttosto aperta ecco ti ripeto, non te lo vedo finire in maniera te lo vedo finire col dire ok c'è stato questo, va bene ora non mi interessa, ora voglio andare avanti, voglio pensare ai miei progetti un mese dove forse smetti di concederti troppo alle istanze altrui e pensi più a te stesso, te stessa non è sbagliato neanche questo va dosato, va dosato il pensare agli altri va dosato il pensare a noi stessi non è un atteggiamento sbagliato assolutamente però ecco forse qui proprio per quanto prima hai dato agli altri ora scegli di chiuderti un attimino nella tua interiorità per cercare di capire come ottimizzare questa è la parola del mese, è ottimizzare come ottimizzare anche le tue energie in vista anche di quelle che poi nel tempo possono essere tante possibilità sia a livello emotivo che a livello lavorativo vediamo un po' che cosa vogliono dirti le carte della strega allora il famiglio, l'alleato è una carta che parla proprio del trovare alleati come dice la carta del re di bastoni e soprattutto nella cerchia delle amicizie o delle conoscenze ma di fare attenzione anche a dove ci porta il contatto con gli altri che è un problema che vedo un po' pressante in questo mese quindi anche cercando di mantenere una certa armonia e di affrontare con lucidità i conflitti che possono esserci con gli altri la carta fa riferimento alla figura del famiglio che per la strega era comunque l'animale totem l'animale di protezione, l'animale guida diciamo e chiede di invocarlo quindi magari in questo senso per chi ci crede per chi sposa questa dottrina in alcuni casi i famigli possono essere considerati anche i nostri animali domestici comunque ecco la carta dice invoca il tuo famiglio invoca il tuo spirito guida invoca colui o colei che comunque per te rappresenta un nome poi che tu lo chiami famiglio che sia uno spirito guida quello dipende un po' dalla via che hai scelto di fare perché attorno a voi ci sono tante possibilità però richiedono molta attenzione, molta lucidità quindi anche le persone attorno a voi siano soltanto le più fidate perché sono quelle che poi possono appunto darvi un sostegno un aiuto concreto e tangibile questo dice la carta quindi ti sta dicendo che effettivamente a fine mese o comunque io qua lo vedo a fine mese poi magari si materializza anche prima però io lo vedo a fine mese una persona effettivamente viene a tenderti una mano in un momento in cui hai deciso di appianare i conflitti hai deciso di lasciarti scivolare un po' addosso anche diverse occasioni c'è questo aiuto, c'è questo consiglio può essere dato da un amico, da un datore di lavoro dalle istituzioni statali c'è comunque un gesto o un consiglio o un beneficio che viene dato da qualcuno la carta ti ribadisce però di appianare i conflitti e di osservare con lucidità il mondo attorno a te cosa che farai perché mi chiudi con un re di spade quindi comunque alla fine forse anche un po' in maniera disincantata ma molto lucida riuscirai questo mese attraverso un lavoro anche di misurazione della tua interiorità a capire che cos'è che ti può dare che cos'è che non ti può dare e ciò che non ti può dare te lo lasci appunto scivolare un po' addosso questo è quello che mi viene da dirti è un mese nel quale farai molta strategia preparerai il terreno magari per i mesi successivi io ti ringrazio per aver visto questo video se ti è piaciuto ti invito a lasciare like ad iscriverti al canale ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva ci vediamo domani per un altro segno zodiacale